Colpo di testa Miracolo di Reina Miracolo di Reina Attenzione La Lazio fa muro Danza sulla palla Poi la passa orizzontalmente per Luiz Alberto Luiz Alberto Luiz Alberto Chesedo la protegge bene Chesedo 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 Miracolo di sepe Stazione mi promette bene Mi rincoce Bella la palla per Lazzari 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 Colpo di testa E la palla fuori Luiz Alberto C'è un break Adesso c'è un po' di margine Luiz Alberto La palla è per Immobile 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 Non ci credo Non ci credo Immobile salta Sepe Si allunga la palla E non riesce a depositarla in rete Cross Luiz Alberto Il fendente Sepe La palla rimane là No Non ci credo Non ci credo Sepe che l'ho visto in difficoltà Sepe la butta giù Bravo Lazzari Miracolo di sepe C'è Lazzari Tagliela Mirinkovic Mette in modo Lazzari Lazzari Il cross A centro aria Luiz Alberto Go La palla per Immobile 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 La palla sta là Luiz Alberto Non ci credo Attenzione Radu Mette in modo Marusic 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 La palla per il sergente Il sergente Immobile Mirinkovic Attenzione Che sepe Marusic Loiz B I 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 Grazie a tutti